Il comune non paga e così rischia di interrompere i servizi sociali erogati la cooperativa Arcobaleno, creditrice di mezzo milione di euro, in pericolo anche diverse decine di posti di lavoro e la stessa gestione della Casa Albergo per Anziani. La comunità grigentina piange per la tragica morte di Nicolas Esposto, uno dei tre ballerini coinvolti in un incidente in Arabia Saudita, dove si erano recati per lavoro. Il giovane artista era originario di San Giovanni Gemini. Covid escalation di positivi a Villafranca Sicula, dove tra i 13 soggetti tuttora contagiati, 10 sono i bambini della scuola dell'infanzia, elementare e media. Tutte le classi sono in quarantena, appello del sindaco Balsamo alla popolazione. Covid è curva dei contagi in provincia. L'ospedale di Ribera sono tre ricoverati in terapia intensiva e la CISL di Agrigento denuncia grave carenze di organico in tutti i reparti dei nosocomi agrigentini, da Sciacca ad Agrigento. Novax riuniti ieri a Sciacca per parlare di terapie domiciliari precoce, sulla base di uno studio fatto da un ricercatore non laureato. Tra i presenti è anche il deputato regionale Sergio Tancredi, che insiste nel suo no al green pass obbligatorio. Sport e calcio solo un pareggio ieri per l'Unitas Sciacca sul campo del fananino di coda in classifica Dolce Onorio-Marsala. La formazione di Giuseppe Geraldi muove la classifica, ma è evidente che da questo inizio di torneo ci si aspettava di più. Benvenuti anche oggi al nostro telegiornale. Rischia di interrompere i servizi sociali erogati la cooperativa Arcobaleno, così come rischia di dover rinunciare alla gestione della Casa Albergo per Anziani. Non appena qui sarà stato dismesso l'hub vaccinale. Il motivo? Il comune di Sciacca non paga quanto dovuto e in nove mesi il credito vantato dal sodalizio per fondi che comunque non sono neanche comunali ma del Ministero dell'Interno è schizzato a mezzo milione di euro. Stamattina il presidente della cooperativa ha tenuto una conferenza stampa. Il servizio è di Massimo D'Antoni. Ha raggiunto la non certo indifferente cifra di mezzo milione di euro e il credito che si è accumulato in capo alla cooperativa Arcobaleno di Sciacca, che gestisce per conto del comune una serie di servizi di solidarietà sociale. Il comune non paga o paga quando può, malgrado per la maggior parte si tratta di fondi del Ministero dell'Interno per i quali l'ente locale è soltanto un tramite. Quindi i soldi ci sono e oggi la cooperativa rischia di chiudere come ha denunciato stamattina il presidente Marco Mustacchia. Da diverse settimane, diciamo che da mesi, che cerchiamo di sollecitare i servizi sociali, il suo dirigente, nel cercare di erogare fondi che già arrivano direttamente da altri enti, però ci viene detto che non c'è il tempo per fare queste determine. A noi ci dispiace un po' questo aspetto perché dietro di noi ci sono dei servizi importanti al servizio della città, ci sono tutta una serie di operatori che lavorano dignitosamente e poi veramente abbiamo bisogno anche da un punto di vista amministrativo, ci sono tutta una serie di incombenze da portare avanti. Alla cooperativa Arcobaleno lavorano 60 operatori, altri 40 si sono dimessi ma sono a loro volta creditori di stipendi che la cooperativa non riesce a pagare. Nel tempo il comune di Sciacca è diventato debitore con nove mesi di arretrati che non sono stati più pagati. Il banco alimentare, lo Sprar per l'accoglienza di minori richiedenti asilo politico, una comunità alloggio per disabili psichici, due centri di urni, uno per adulti e l'altro per minori, due comunità alloggio, un servizio di assistenza agli anziani e uno per i disabili e il servizio sociale per pene alternative. E' vasto il ventaglio di servizi che la cooperativa Arcobaleno presta per 150 persone circa tra i soggetti beneficiari, tutti servizi che potrebbero improvvisamente essere interrotti. In mancanza di pagamenti infatti la cooperativa non è in grado di andare avanti neanche di pagare i contributi necessari ad ottenere il documento di regolarità contabile. Tutto questo mette a rischio l'avvio della gestione della Casalbergo per anziani dopo che l'hub vaccinale sarà dismesso per il quale la cooperativa giudicataria del bene dovrà corrispondere al Comune 50.000 euro l'anno di effitto e 25.000 euro l'anno di tassa sulla spazzatura. Se non c'è un'erogazione regolare di quello che il Comune deve dare alla cooperativa Arcobaleno ed è chiaro che le conseguenze possono essere anche quelle possibile nei prossimi mesi della chiusura della cooperativa o addirittura già c'è il Consiglio di amministrazione della cooperativa che ha intenzione di dimettersi come segno di protesta ed è chiaro che dal momento in cui non abbiamo questa erogazione il progetto della Casalbergo che coinvolge tutta la città non può essere portato avanti anche se noi già abbiamo siglato col Comune di Sciacca nel mese di aprile un accordo che ci permette dopo il progetto questo del Lab che attualmente sta funzionando e noi insieme col Comune siamo stati veramente contenti di poter offrire il piano terra della struttura per vaccinare più persone possibile. Cambiamo argomento. La comunità grigentina piange per la tragica morte del ballerino Nicola Sesposto deceduto assieme ad altri due colleghi italiani in Arabia Saudita dove erano andati per lavoro. Il giovane era originario di San Giovanni Gemini. Sentiamo. Un giovane talentuoso per la comunità di San Giovanni Gemini un orgoglio e un esempio da seguire per tutti i giovani. Così il sindaco Carmelo Panepinto ha commentato sconvolto e commosso la morte del ballerino Nicola Sesposto che era nato in Francia dove i genitori erano emigrati ma era cresciuto a San Giovanni Gemini. Nel piccolo comune agrigentino era nata la passione per la danza, aveva inseguito un sogno e lo aveva realizzato con tanti sacrifici. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità agrigentina. Nicola Sesposto, 28 anni, era in Arabia Saudita assieme ai colleghi Antonio Cagianelli, 33enne di Bisceglie, e Giampiero Giarri, 32 anni di Roma. La compagnia di ballerini professionisti della quale facevano parte era in tournée in Arabia Saudita. Approfittando del giorno libero i tre artisti avevano deciso di partecipare ad una gita nel deserto ma la jeep sulla quale viaggiavano è finita in una scarpata e non è stato facile recuperare i corpi delle vittime. Una tragedia che ha commosso l'Italia intera è che ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno in provincia di Egrigento a San Giovanni Gemini così come a Cammarata. Nessuna vita dovrebbe essere spezzata così tragicamente, ha scritto il sindaco Giuseppe Mangiapane che si è associato al collega di San Giovanni Gemini e ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giovane ballerino. Nicolás Esposto era cresciuto nella comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini all'oratorio Don Michele Martorana partecipando alle varie attività anche al Giovanni in Festa 2014. Dalla provincia di Egrigento era partito per una carriera che lo aveva visto esibirsi in tv e a teatro. Il 3 ottobre scorso sulla sua pagina Facebook seguita da 5.000 persone aveva invitato a seguire la sua esibizione su Rai 2 nell'ambito del premio Persephone 2021. E su Facebook da ieri è un susseguirsi di commenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia ma anche di ricordo del ballerino professionista. E veniamo alla pagina del Covid. Si fa preoccupante la situazione a Villa Francasicula a seguita di un focolaio scoppiato all'interno di una scuola. Dei 13 casi positivi, 10 sono tutti bambini di scuola dell'infanzia, elementare e media. Le classi sono tutte in quarantena. È una situazione che sta degenerando e invito le famiglie coinvolte a rimanere a casa perché rischiamo la zona rossa di che era il nostro telegiornale e il sindaco Domenico Balsamo. Sentiamo. Sono tutti di Villa Francasicula i 10 bambini che frequentano l'istituto comprensivo Roncalli di Burgio risultati positivi al Covid. Alcuni frequentano la scuola dell'infanzia, altri l'elementare e qualcuno la scuola media. A darne notizie è stato il sindaco di Villa Francasicula, Domenico Balsamo, assai preoccupato da una situazione che rischia di peggiorare. Tutte le famiglie coinvolte devono rimanere a casa, dichiara oggi il sindaco al nostro telegiornale, anche in presenza di genitori e altri componenti del nucleo familiare vaccinati. Tutto è partito dalla scuola dell'infanzia, con una bambina e poi probabilmente saranno state contagiate altre bambine sia della scuola dell'infanzia, così poi avendo fratellini o sorellina alla scuola elementare, scuola media, quindi si è sviluppato un po' tutta questa situazione, la situazione attuale che è vero che sono 13, però per Villa Franca, per gli abitanti che siamo già diventa ad essere un problema che se non va gestito in maniera corretta non so dove ci può portare. Le classi dove si sono registrati i casi di positività al Covid sono tutte in quarantena, è già scattata la sanificazione dei locali e giovedì sarà lo screening sulla popolazione scolastica a svelare se ci saranno meno altri studenti contagiati. Se non mettiamo in campo tutte le attività di prevenzione, rischiamo la zona rossa, conclude il sindaco Balsamo. A parte la quarantena, la quarantena delle classi interessate, perché il protocollo prevede questo, quindi le classi interessate, poi noi abbiamo fatto la sanificazione dei locali, però l'appello che io ho fatto scrivendo qualcosa su Facebook e che voglio fare attraverso attraverso di voi, è quello per le famiglie di fare maggiore attenzione ai propri figli, di non considerare il fatto che magari gli stessi genitori o qualcuno più grande è vaccinato e quindi è chiaro che tutti dobbiamo stare a casa, perché i conviventi di un positivo accertato devono stare a casa, a prescindere che siano vaccinate o non vaccinate, anche se al tampone che hanno fatto, al tampone molecolare o altro tampone sono risultate negative, però è chiaro che devono stare a casa, tutti dobbiamo cercare di rispettare le regole se vogliamo trovare una soluzione a questo problema, altrimenti non voglio arrivare oltre, però io non so se continuando di questo passo sicuramente per gli abitanti e per il numero che va salendo di giorno in giorno è chiaro che potremmo aspettarci un'eventuale zona rossa, alla quale io non voglio proprio pensare, però è chiaro che deve essere un monito per i miei concittadini, per tutti i genitori e per tutti quanti siamo noi qui ad abitare nella nostra realtà, a fare e utilizzare sempre tutte le precauzioni possibili, quindi sperando che nel giro di 15-20 giorni se siamo brave riusciamo a isolare un po' questa situazione. Ora è in settimana, giovedì ho avuto comunicazione da parte dell'ASPE che c'è questo screening con tutte le classi interessate e vediamo un po' cosa viene fuori, speriamo che non vengano fuori altre positive. E veniamo alla curva dei contagi, scendono ancora i ricoveri in degenza ordinaria al Fratelli Parlapiano dove in area medica ci sono adesso solo due pazienti ricoverati, tre e cioè uno in più sono invece ricoverati in terapia intensiva. 11 nuovi casi di positività riscontrati ieri in provincia ma sul numero basso di tamponi eseguiti, 82. A Sciacca, città che ha registrato un incremento di positivi negli ultimi giorni, i contagiati adesso sono 36, due in meno rispetto al giorno precedente. Sentiamo. 11 nuovi casi di positività al Covid su 82 tamponi processati, 6 guariti, nessun nuovo ricovero e nessun decesso. Sono i numeri contenuti nell'ultimo bollettino dell'ASPE di Agrigento sull'andamento epidemiologico in provincia, quello che fa riferimento alla giornata di ieri. Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati in degenza ordinaria. Adesso sono due le persone in area medica al Fratelli Parlapiano di Ribere, cioè tre in meno rispetto a sabato. C'è però un ricoverato in più in terapia intensiva, dove i posti letto occupati adesso sono tre. In totale sono 264 i positivi al Covid in provincia, 259 in istituzione, isolamento domiciliare e 5 ricoverati in ospedale. Sul fronte dei contagi non si registrano grandi novità. A Sciacca, città che ha registrato un incremento di casi negli ultimi giorni, le persone contagiate adesso sono 36, e cioè due in meno rispetto al precedente bollettino. È la seconda città della provincia per numero di positivi, dopo Palma di Montechiaro, dove i cittadini positivi al Covid sono 42, due in più. Dieci i casi a Ribera, due a San Buca di Sicilia, un caso a Santa Margherita Belice e Santo Stefano Quisquina, che dunque non sono più Covid-free. Undici a Villa Franca Sicula, dieci ad Agrigento, un caso ad Aragona, altro comune che non rientra più nella lista delle città a zero contagi, due a Bivone e Burgio, cinque a Caltabellotta, 25 a Canicattì, cinque a Cattolica Eraclea, undici a Favara, ventuno a Licata, un caso a Menfi, undici a Naro e cioè tre in più, 42 come si diceva a Palma di Montechiaro, 17 a Portempedocle, due a Racalmuto, 12 a Raffadali, un caso a Ravanusa. Covid-free i comuni di Alessandria della Rocca, Calamonaci, Camastra, Cammarata, Castrofilippo, Cianciana, Comitini, Ioppolo Giancazio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Siculiana. Carenze di organico gravi in tutti i reparti, con una situazione di vera e propria emergenza per il pronto soccorso. Questa è l'ennesima denuncia della CISL sulla situazione del personale sanitario negli ospedali di Sciac, Ribera, Licata, Grigento e Canicattì. Intanto il presidente della regione Nello Musumeci stile il bilancio degli interventi che in un anno hanno consentito di realizzare negli ospedali 95 nuove posti di terapia intensiva e subintensiva, 20 dei quali al Covid Hospital di Ribera. Sentiamo. 95 posti di terapia intensiva e subintensiva completati, altri 194 in cantiere da attivare entro qualche mese, attrezzature elettromedicali per 18 milioni di euro e 14 nuove ambulanze a disposizione di aziende sanitarie ospedaliere. Numeri evidenziati oggi dal presidente della regione Nello Musumeci relativi alle attività, poste in essere in un anno di attività, della struttura commissariale per l'emergenza Covid e di cui è commissario, coordinata dall'ingegnere Tuccio D'Urso. 20 dei posti letto in terapia intensiva sono stati realizzati come noto all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, struttura diventata Covid Hospital, altre al Garibaldi e Policlinico di Catania, al Policlinico di Messina e al Civico e Policlinico di Palermo. Entro la fine dell'anno, con il completamento di altre 194 unità, il numero complessivo di nuovi posti letto creati sarà di 289, ma parallelamente si lavora anche per riqualificare pronto soccorso con 15 interventi la cui conclusione è prevista entro dicembre. Aumentano i posti letto in Sicilia, ma il problema rimane quello del personale medico e infermieristico. A tal proposito la CISL torna a denunciare la grave carenza di tutti gli ospedali della provincia, Sciacca, Ribera, Licata, Canicattia e Grigento, perché le attuali dotazioni organiche, evidenziato Alessandro Ferruggia, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica, risultano inadeguate rispetto a livelli assistenziali e i servizi da espletare. Il personale in servizio di conseguenza è costretto a carichi di lavoro estenuanti e spesso assegnato ad altre realtà rispetto a quelle per le quali era stato assunto. Dalle diverse assemblee sindacali con i dipendenti, evidenzia infatti il responsabile sindacale, viene riferito che ormai da tempo un numero importante di dirigenti medici per mezzo di disposizione di servizio devono garantire la presenza presso altri presidi perché sotto organico a causa di mobilità improprie che generano maggiori spese per l'azienda che è costretta a riconoscere le indennità chilometriche le prestazioni aggiuntive. Questo accade in diverse unità operative come ginecologia, ortopedia, pediatria e cardiologia ma accade anche, aggiunge il sindacato, che vi siano dei veri e propri reparti fantasma che esistono solo sulla carta in quanto non esiste un personale dedicato o è gestito da pochissimi lavoratori. Con l'emergenza covid insomma sono esplose le già da anni situazioni di deficit delle piante organiche degli ospedali agrigentini. Il sindacato torna a sollecitare il governo regionale e nazionale a risolvere il vero problema della sanità, ossia la carenza di operatori in servizio. Un gruppo di persone no vax e no green pass si è riunito ieri a Sciacca per incontrare un ricercatore non laureato, studioso di terapie domiciliari precoci per combattere il covid ed un medico di base che quelle terapie mette in atto. Sentiamo. E quindi abbiamo scoperto che c'erano tre cicli vitali che ci proteggevano, che formavano uno scudo molecolare, che ci proteggevano dai veleni e dalla replicazione dei virus. Questi cicli vitali non permettono al virus di replicarsi e quindi diventare virulento e causare la sindrome multiorgano e poi l'escus finale. Applicando questa terapia il virus diventava innocuo. La persona che avete appena ascoltato si chiama Giovanni Puccio. È lui lo studioso delle terapie precoci domiciliari che secondo il gruppo no vax e no green pass che si è riunito ieri mattina a Sciacca alla pizzeria Buenos Aires permetterebbero la guarigione di chi è affetto da covid. A dispetto dell'indicazione della locandina che lo indicava come dottore è stato lo stesso diretto interessato a precisare di non essere laureato ma di avere fatto degli studi da autodidatta. Su un percorso ha detto chi ha dato le risposte che doveva dare su tutti i pazienti trattati regolarmente guariti. Mi aiuta a capire, lei non è un medico, non è un chimico? Che titolo di studiare? Autodidatta, la cistare i titoli di studiare. Il problema è che ho quattro pubblicazioni scientifiche perché non ho studiato, perché io volevo dei meriti o nemmeno. Era una questione di rivarsa nei confronti di una malattia che mi aveva ucciso mia madre. Tutto quello che dico è dimostrabile. Ma lei questi studi sulla base di quale titolo li fa? Siccome conoscevo benissimo i tumori che attaccavano le piante superiori e prospettai questa idea al professore universitario a Palermo, loro mi dissero ci dimostrano e da quel giorno io sono stato il promotore sullo stesso ostiativo a livello internazionale. La medicina ufficiale ha compiuto scelte sbagliate, ha poi detto Puccio, accusando quella che ha definito la lobby degli oncologi. Lei dice che i medici hanno interesse a far morire le persone? Questi medici, io sto parlando di gente alta locata. Ma ieri alla pizzeria Buenos Aires un medico c'era, il dottor Francesco Giuseppe Cusumano, il quale ha detto di aver sperimentato la cura ed averlo fatto con successo sui suoi pazienti. Quando curai a Bergamo non ho mai dato l'eparina a basso peso molecolare perché l'anatomia patologica ancora non si faceva, ma quando si fecero le prime autopsie si è visto che si moriva per trombosi e per CID. Quindi a questo livello abbiamo incominciato a dare l'eparina a basso peso molecolare. Io ho curato quasi 2000 persone in tutta Italia e non ho avuto una ospedalizzazione. Ma ecco come, alla domanda se si sia vaccinato o meno, il dottor Cusumano ha risposto. Questo è un discorso di privacy. Da un medico invocare la privacy mi sembra un po' così riduttivo. Perché lei vuole sapere se io mi sono vaccinato o no? Se vuole un'opinione sui vaccini facciamo un altro incontro sui vaccini. Uno me la può esprimere adesso un'opinione sui vaccini? E dico che è un vaccino giovane e dobbiamo stare molto attenti. E ieri alla manifestazione No Vax, No Green Pass, ha partecipato anche il deputato regionale di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi, il quale ha confermato la sua posizione nei confronti dell'obbligo di esibire il Green Pass all'Ars, evidenziando che lui guarda i diritti previsti dalla Costituzione. Ascoltiamo Tancredi, intervistato da Massimo D'Antoni. Onorevole Tancredi, cosa secondo voi non funziona dell'informazione su questa vicenda? È chiaro che abbiamo visto un racconto tutto in un'unica direzione. Ci sono diverse evidenze che ci hanno portato a considerare che in questi ultimi 16 mesi di fatto tante cose che si potevano fare sono state accantonate per seguire una via che è quella ufficiale ma che probabilmente ad oggi ancora comporta alcune inefficienze. Ecco, ma gli ospedali lo sai che sono stati sotto pressione? Assolutamente sì, quello è un dato incontrovertibile che nessuno vuole negare, ma è chiaro che nel momento in cui, nella fase iniziale di questa tragedia, si è detto ai medici di non visitare i propri pazienti, è chiaro che era inevitabile. Chi ha detto ai medici di non fare le visite? Allora, io ho potuto vedere delle mail da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che imponevano di fatto ai medici di base di non visitare i propri pazienti. Qualcuno le visite le ha fatte e ha preso anche il virus e qualche medico è anche morto? Assolutamente sì, anche perché in prima battuta, ricordo a me stesso, ma lo sanno ormai tutti, il piano pandemico nazionale che prevedeva determinati protocolli non è stato nemmeno attuato. Lei conferma l'impegno che ha assunto se martedì non la fanno entrare all'ARS di chiamare la polizia? Questo è un altro discorso perché io faccio una netta distinzione tra quello che è l'aspetto della malattia rispetto a quello che è l'aspetto giuridico dei diritti e quello che sta accadendo perché, parliamoci chiaro, il Green Pass non è una misura sanitaria, è di fatto una misura totalmente politica. Lei è un uomo delle istituzioni, come fa a non rispettare un regolamento, una direttiva, una prescrizione che è stata comunque approvata magari a maggioranza, magari senza il suo voto, però lei dovrebbe adeguarsi? Allora, io faccio a mia volta un'osservazione, come è possibile che un decreto ancora non convertito in fase definitiva di carattere ordinamentale possa prevaricare quello che dice la Costituzione, che è una norma di rango superiore, ovviamente. Se lo Stato avesse imposto l'obbligo di vaccinazione, lei cosa avrebbe pensato? A quel punto si sarebbe avuto il coraggio di prendere una posizione ben precisa che non è stata in questo momento presa, perché ovviamente sono talmente elevate le prescrizioni sul vaccino che ognuno di noi difficilmente riesce ad essere certo delle possibilità o delle difficoltà che può dare il vaccino. Che opinione ha delle persone che hanno deciso di sottoporsi al vaccino? Io sono per la libera scelta. Tombaroli, nuovamente in azione, quasi cento i piccoli scavi scoperti nell'area archeologica di Eraclea Minoa nei pressi dell'Anfiteatro a Cattolica Eraclea, con l'ausilio di strumenti approfittando del buio, sono andati a caccia di reperti archeologici e al momento non è chiaro se li abbiano trovati e portati via. Non è la prima volta che succede. L'Anfiteatro di Eraclea Minoa e tutta l'area circostante sono spesso presi di mira dai Tombaroli. L'esempio è stato scoperto e denunciato da uno dei responsabili del sito. Poco meno di una cinquantina i migranti rintracciati ieri lungo la Statale 115 dopo l'ennesimo sbarco avvenuto nella costa grigentina. Erano diretti a Siculeana, Portempedocle e Ribera. Nessuna traccia dell'imbarcazione con la quale sono arrivati a terra. Ne parliamo nel servizio. Questa volta del barchino nessuna traccia. Non è rimasto abbandonato, come è successo anche nel recente passato, ma sono stati rintracciati e fermati i migranti che sono approdati nel territorio agrigentino. L'ennesimo sbarco fantasma, avvenuto probabilmente alle prime luci dell'alba. A segnare la presenza di un nutrito gruppo di extracomunitari che procedevano in direzione di Siculiana sono stati alcuni passanti. Migranti che probabilmente sono stati fatti sbarcare nei pressi della riserva di Torre Salsa da una nave che poi ha ripreso il largo. Solitamente invece vengono utilizzate piccole imbarcazioni per arrivare a riva che poi vengono abbandonate e a volte rinvenute con motore acceso. Subito dopo la segnalazione sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri, polizie e guardie di finanza che hanno bloccato i migranti suddivisi in piccoli gruppi. Camminando sul ciglio della strada alcuni si stavano dirigendo verso agrigento. Altri gruppi invece si stavano muovendo dalla parte opposta verso Ribera. 47 migranti che sono stati rintracciati nell'arco della mattinata e accompagnati dai carabinieri, polizia e guardie di finanza alla tenso struttura di Porta Empedocle. Ma le ultime 24 ore sono state all'insegna degli sbarchi a Lampedusa con l'hotspot che conta più di 100 migranti in eccesso rispetto ai posti disponibili. Siamo alla consueto pagina dedicata alle vostre segnalazioni. Tra turni di erogazione idrica non rispettati, sporcizia, incurie e situazioni di pericolo inoltrateci da voi telespettatori. Sentiamo. Nuova gestione del servizio idrico, vecchi problemi. La rubrica delle vostre segnalazioni si apre con il disappunto dei cittadini di più zone di sciacca per un approvvigionamento idrico non regolare. Se prima in alcune contrade l'erogazione idrica veniva effettuata a giorni alterni, adesso è stata ridotta ad una volta a settimana. E se per caso quel turno salta, i cittadini devono aspettare 15 giorni per ricevere l'acqua dovuta. È quanto riferiscono ad esempio i residenti inferociti della località balneare Foggia, ma segnalazioni giungono anche da altre zone periferiche. Non è noto il motivo per cui in alcune zone il servizio viene garantito tutti i giorni e in altre zone così di rado. In pieno centro storico invece segnalano che non vengono rispettati turni di erogazione fissati nel sito internet di Aica, qui l'acqua più o meno viene erogata un giorno sì ed uno no, ma non nei giorni e negli orari indicati, seguendo una logica sconosciuta ai residenti. E capita anche spesso, riferiscono ai cittadini, che l'acqua arrivi ogni tre o quattro giorni ed è un grosso problema per chi non ha e non può avere, per questioni logistiche legate al posto, una cisterna capiente e si ritrova dunque impossibilitato a rifornirsi tramite autobotte. Si chiede in conclusione maggiore regolarità nel garantire il servizio. Passiamo ai rifiuti, prima abbandonati in via Sant'Agata dei Goti dai soliti incivili e poi ritirati dagli operatori ecologici attraverso una bonifica straordinaria effettuata su indicazione del comune di Sciacca e l'assessore Michele Bacchia di inviarci le foto che vi mostriamo, l'ennesimo intervento e l'ennesima spesa che poteva essere evitata. La zona nei pressi del cimitero comunale, in più punti, è stata da sempre presa di mira e trasformata in discarica, uno dei tanti luoghi dunque in cui è necessaria l'installazione delle telecamere. Rimaniamo in tema rifiuti abbandonati ma ci spostiamo in un'altra zona, ai piedi del Monte Cronio, incontrate a Sabella, lungo via degli agrifogli che costeggia la parte a valle del Bosco San Calogero, sono stati lasciati sul ciglio della strada dei sacchetti contenenti rifiuti di vario genere. Probabilmente qualcuno si è recato al boschetto per un picnic e non trovando dei cestini ha raccolto i rifiuti prodotti in dei sacchetti e anziché portarli via in macchina per conferirli altrove, li ha lasciati nei pressi della strada pensando che gli operatori ecologici li avrebbero ritirati. Così non è stato ed è da due settimane che giacciono sul posto attirando animali randaggi. Segnaliamo il problema nella speranza che venga risolto tempestivamente. Spostandoci poco più su, in cima al Monte Cronio, presso la più nota e frequentata pineta di San Calogero lungo la via principale, insiste una situazione di pericolo causata da un tombino. Tralasciando i tanti altri pericoli presenti nella pineta, tra la staccionata distrutta e le condizioni di degrado in cui si presenta l'aria, questo tombino trovandosi proprio sulla strada potrebbe creare problemi seri a dei bambini o altri passanti che non vedendono rischiano di farsi male. Attendone infine che una volta e per tutte venga effettuata una potatura nel vicolo San Cataldo. Le foto spiegano meglio di mille parole la situazione. Le fronde di un albero in pratica raggiungono i balconi delle abitazioni che costeggiano entrambi i lati dell'arteria, occupando tutta la parte superiore della strada. Esasperati, i residenti chiedono di essere presi in considerazione e che dopo anni venga effettuata una potatura. Servizio civico. Il Comune di Ribera ha pubblicato l'avviso destinato ai cittadini privi di occupazione e quindi stare in situazione di disagio economico. Possono presentare stanze di partecipazione entro il 15 novembre prossimo utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito internet. Il servizio civico ha come finalità il reinserimento sociale dei cittadini in situazione di grave bisogno in attività di pubblica utilità per un massimo di tre mesi con un compenso che varia da un minimo di 250 ad un massimo di 500 euro. La sezione FIDAPA di Sciacca ha inaugurato il nuovo biennio 2021-2023 alla presenza della rappresentante FIDAPA del distretto Sicilia Maria Cianciutto. Il consueto passaggio delle consegne è venuto tra l'uscente Anna Maria Piccone e la nuova presidente Agnese Sinaga. Nel comitato di presidenza fanno parte Antonella Palazzotto, vicepresidente Francesca Piro, Rosa Balsano e Anna Maria Piccone. L'obiettivo principale della FIDAPA è quello di valorizzare la donna in ogni campo sociale. E vediamo quale libro che ci consiglia da leggere la Mondadori. Cola a sette anni, è concentratissimo, studia una mela verde sul davanzale di una finestra. Fuori ogni cosa è bianca dalla neve, appena caduta, i tetti della città che si scorgono appena. La città dà su un fiume, il Volga, nel pieno dell'inverno russo. Cola è orfano e vive con la sorella in un istituto. Ha alle spalle una storia di povertà, di saggio e scarsa cura, se non abbandono. Quel bambino che oggi ha 30 anni e abita in Sicilia racconta la sua storia. Prima del bambino che guarda, ora del ragazzo che scrive. Da Svidania racconta del male e del dolore, ma anche moltissimo del bene. La zia che tira fuori i bambini dai guai, il direttore dell'istituto che per primo mette in mano un libro al bambino, è quel libro e l'idiota di Dostoievski. E poi l'infermiera Catuscia che stringe con lui un patto di speranza. Gli amici dell'orfanotrofio, ognuno con il proprio fardello di rabbia e vitalità. E infine i due maestri che adottano Cola e la sorella portandoli con sé in Sicilia e offrendogli un radicamento da cui potranno guardare avanti e anche indietro. Conne da Svidania, Nicolai Prestia racconta come anche da bambini si possono amare tutte le memorie, non solo quelle felici. Da Svidania di Nicolai Prestia, Edito Marsilio. Sport calcio, solo un pari per l'Unitas Sciacca bloccato sullo 0-0 dal fanalino di coda del torneo di eccellenza e il doccio onorio Marsala. I saccensi non sono riusciti a concretizzare le occasioni da rete e nemmeno la superiorità numerica nel secondo tempo. Un pari che muove la classifica, che per lo Sciacca però resta al di sotto delle aspettative della vigilia. Sentiamo il servizio. Solo un pareggio per l'Unitas Sciacca. 0-0 il risultato finale della partita contro il dolce onorio Marsala, giocata a porte chiuse sul campo neutro di Paceco, terreno di gioco in erba sintetica. I neroverdi non sono riusciti a sbloccare l'incontro, nonostante il maggior tasso tecnico della squadra. Il team di Giuseppe Geraldi ci ha provato in tutti i modi a scardinare la difesa del Marsala, ma senza riuscirci. Reti Bianche, il secondo 0-0 stagionale dei saccensi su sei partite del campionato di eccellenza, ed unico 0-0 di giornata nel girone A. Una buona prova sul neutro di Paceco per Ciancimino e compagni, vogliosi di portare a casa l'intera posta. Le occasioni ci sono state, con De Giovanni e Sant'Angelo soprattutto nel primo tempo, ma non sono state concretizzate. Nelle riprese invece l'incontro è stato piuttosto equilibrato, nonostante i saccensi abbiano giocato la parte finale in superiorità numerica, a causa dell'espulsione di un giocatore dei padroni di casa. Si rientra dalla trasferta trapanese forse con un po' di rammarico, ma è un punto che comunque muove la classifica in un torneo che si conferma molto equilibrato. Il dolce Onorio Marsala si conferma l'unica squadra del girone a non aver segnato ancora nemmeno un gol durante tutto il torneo, mentre per i neroverdi la consapevolezza che occorre recuperare subito tutti gli effettivi, in particolar modo Coco e Ido Iaga. L'Unitas e Sciacca adesso tornerà in campo domenica prossima al Gurrera contro il Mazzara Calcio, che veleggia in zona play-off, mentre i saccensi restano nei bassi fondi della classifica. In testa al torneo, appaiate con 13 punti, restano Canicattia e Mazzarese, in attesa della partita dell'Akagas, che giocherà mercoledì pomeriggio a Monreale. Il pilota di Sciacca, Antonino Di Matteo, ha vinto il campionato italiano slalom nella sua categoria Formula, ha conquistato i punti decisivi allo slalom di Torregrotta. Nel servizio ci sarà spazio anche per la mountain bike e le arti marziali, con le trasferte degli attreti saccensi rispettivamente a Cinisi e a Ostia Lido. Sentiamo. Auto, bella soddisfazione per il pilota di Sciacca, Antonino Di Matteo, che ieri si è laureato campione italiano slalom per la categoria Formula. Di Matteo, infatti, ha ottenuto i punti decisivi durante la gara di ieri il tradizionale slalom Torregrotta-Roccavaldina. Per il Seccense si tratta di un risultato importante, che vissa i successi conquistati nelle stagioni precedenti. Antonino Di Matteo corre su Formula Gloria C8F, auto curata dalla Castiglione Motorsport e da Vincenzo Noto. La sua formula è gommata Pirelli. Dotata del cambio al volante Power Shift, è motorizzata Suzuki Ayabusa 1.6. La gara di Torregrotta è una delle più belle ed importanti del circuito nazionale. E passiamo alla mountain bike. Ieri, l'associazione sportiva Margi Bikers di Cinisi ha organizzato la prima Gran Fondo di Cinisi, gara di mountain bike inserita nel calendario regionale CSI per l'anno 2021. Il Seccense Salvatore Torturici, iscritto con la società Campobello Running Bike, si è classificato secondo assoluto e secondo nella sua categoria di appartenenza. L'altro Seccense, Alessandro Bono, iscritto per la stessa società, si è classificato ventisesimo assoluto e quarto nella sua categoria. È stata una gara abbastanza intensa, soprattutto a causa del percorso piuttosto scivoloso, soddisfatti gli atleti per i risultati ottenuti. E chiudiamo con le arti marziali. Niente da fare stavolta per la Ippon Garata Lentini, impegnata al campionato italiano assoluto per la federazione Filcam. I ragazzi, accompagnati dal tecnico Marco Lentini, hanno gareggiato tra i senior per la specialità Kumite, combattimento a contatto controllato. La manifestazione si è svolta ad Ostia Dido. Stavolta si torna a casa senza medaglie. Niente da fare, infatti, per gli atleti Giuseppe Gulino e Vincenzo Catanzaro, che, pur avendo avuto una condotta di gara esemplare ma sfortunata, hanno dimostrato di essere degni atleti del team di appartenenza. Termina qui il nostro telegiornale per questa edizione. Grazie ancora una volta per averci seguito. Alle prossime, arrivederci. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS